Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo video super ultra iper mega rapido proprio una cosa istantanea solo per comunicarvi che questa sera a meno che non faccia qualche cavolata di sorta sarò in diretta sul canale di Ricky Spritz canale che vi lascio in sottofondo anche credo che lo conoscano comunque quasi quasi tutti visto che ha tipo 5 volte il mio numero di iscritti parteciperò in maniera puramente vocale diciamo così alle ore 9 ripeto e si parlerà di Captain Tsubasa di questo di questo anniversario e di tante altre belle cose quindi se volete partecipare scrivendo magari facendo qualche domanda nei commenti o quant'altro mi fareste un grande piacere io intanto ringrazio Ricky pubblicamente perché per me comunque è una cosa nuova ed è molto l'ho apprezzata molto quindi lo ringrazio lo ringrazio veramente veramente tanto se volete partecipare ragazzi ci vediamo stasera alle 9 canale di Ricky Spritz pace belli a stasera ciao 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 ciao